A poche ore dallo stato di agitazione proclamato dagli autotrasportatori tarantini il conseguente blocco degli accessi alla raffineria di Taranto, Eni risponde con una nota ribadendo e confermando il proprio impegno al fine di garantire i servizi di autotrasporto con l'attuazione di meccanismi di salvaguardia in merito alle ricadute sull'indotto locale. Il recente appalto, assegnato agli stessi due fornitori che da tempo effettuano il servizio, prevede il ricorso a una quota pari al 50%, spiegano, di trasportatori locali così come in passato. Eni assicura di aver garantito e di continuare a farlo affinché i requisiti contrattuali siano rispettati dai due appaltatori i quali hanno facoltà di individuare le ditte locali con le quali operare, ovviamente nel pieno rispetto degli standard imposti.